Ricorre domani, 20 marzo, il 45esimo anniversario dell'assassino del giornalista molisano Mino Pecorelli, ucciso a Roma mentre usciva dalla redazione del suo giornale OP, Osservatore Politico. Fu colpito a morte da uno o più sicari non ancora identificati e per volontà di mandanti di cui non si conosce l'identità. A distanza di 45 anni, dopo una serie di processi mai giunti alla verità definitiva, la tenacia e la volontà di Rosita Pecorelli, sorella del giornalista nato a Sessano del Molise, ha fatto sì che finalmente Mino Pecorelli venisse considerato così come merita, e cioè come un professionista capace e coraggioso, addirittura anticipatore di quel giornalismo d'inchiesta oggi tanto sannato e praticato. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha voluto, infatti, costituirsi parte civile nei procedimenti di cui si cercano ancora elementi di prova per l'omicidio del giornalista. Un giornalista capace di avere fonti di informazione in ogni ambito della società e pronto a rilevare e rivelare notizie difficilmente pubblicate da altri. L'esempio di Mino Pecorelli, un molisano nato a Sessano, è ancora oggi per la Federazione della Stampa un modello da seguire, non solo per chi vuole diventare giornalista, ma per tutti i cittadini, poiché ha sacrificato la sua vita per amore della verità.